dai pricing, pricing scusate ibra questa volta è la zecca da fuori non si fa gol da fuori, ma si fa basta provarlo, è volerlo no, io invece che darla ibra ho detto la sportista, lui si aspetta che la do ibra io mi giro e lascio partire un missile e qua è così tu ti aspettavi che io davo su ibra che davo lo scambio, te l'aspettavi e guarda dove va dentro inutile che fai controllare play cambia la telecamera ti scegli quella più bella che ti piace adesso arriva il tiro, attento eh, direi che è l'angolino direi che è l'angolino vabbè, abbiamo appurato anche che non ha gatta bene grandissimo gol di layout